E allora accendiamo i motori? Accendiamo gli sti motori. Partiamo, partiamo. Mi sono pettinato, però aspetta, metto una pettinata veloce, un attimo così. Intanto Facebook sta facendo il fetching live stream. Non so perché, mi è comparso tutto in un certo punto, miracolosamente un po' selezionato, ma adesso dovremmo essere live. Live, 018, 019, 020. Il microfono spero vada bene, mi sentiate abbastanza bene. Confidiamo nei potenti mezzi dello studio televisivo Montienco di Brighton, United Kingdom, World, Planet Earth. Come state? Ciao Luisa Orlando, ben gioinata. Esiste la parola gioinata? Fabrizio, buongiorno. Paolo Lama, joined, veloce, Bruno Checcoli e via, dicendo ciao Omar. I miei omaggi, i miei saluti. Allora, volevo fare una diretta al volo, così, perché avevo un po' di argomenti che ho visto, ho detto, sai cos'è? Al posto di farci... Urca, sono live. Ti richiamo. So che tu che mi hai scritto, mi stai guardando, ti richiamo, dammi un minuto. Volevo fare una diretta al volo perché era più facile semplicemente mettere insieme un po' di idee, un po' di riflessioni e anche di cazzeggio perché ho visto gli Oscar, cioè non è che ho visto gli Oscar, però ho visto un pezzettino, un po' i premiati, ho visto i vincitori, mi sembrava carino. Poi c'è un po' di robine interessanti sul videogioco che sto facendo. C'è ancora qualche giorno per giocare al videogame, quello del ping pong. Ha fatto dei numeri incredibili, adesso ve li dico perché mi è arrivato il report e quindi ve li dico, può essere anche uno stimolo interessante per delle cose che volete fare voi, insomma, per comunicare, eccetera, eccetera. Luca Lanzanò, che bella pelata, siamo i migliori noi, stempiati con la stempiatura un po' alta, e lo so, lo so, è quel fascino che non si riesce a trattenere, la pelosità, la pel... Lo so, va bene, microfono va bene, immagini come stai, sto molto bene, Simone ti ringrazio, c'ho una chioma fiorita oggi, penso. Allora, partiamo dagli Oscar, che cosa ho visto? Ho visto Joaquin Phoenix, che ha vinto l'Oscar per Joker, era un po' che volevo parlare di Joker, e quindi è questa l'occasione buona. In pratica, avevo visto un'intervista dopo che ho visto Joker, che mi ha lasciato questa sensazione uscito dal cinema, eh, come la ricordo perfettamente, sono uscito dalla sala, e dovevo andare in bagno. Allora ho detto alla mia dolce metà, guarda, vado in bagno, però, aspettami fuori, che sai quella sensazione un po' disturbata che dici qua? Non so che cazzo può succedere, mi saltano addosso nel bagno. Ecco, ti lascia quella emozione disturbante e disturbata. Questo era Joker, e la sua interpretazione clamorosa, clamorosa, lo vedi proprio questa risata, poi l'avete visto Joker? quando ha questa risata che non riesce a controllare folle, pazza, furiosa? Cioè, è incredibile lui come recitazione. E allora avevo visto un'intervista, poi, che ha fatto, l'ho trovata su YouTube, una delle N.Mila che ha fatto, e una delle domande era, ma, cioè, com'è stato per te entrare nella parte di questo personaggio psicopatico? Cioè, che cosa vuol dire per te, no? E l'intervista di attore cercava proprio di tirargli fuori il pathos. E lui lo guarda e dice, ma, lavoro come un altro. Cioè, per quel periodo lì ho fatto Joker, poi faccio un altro. E a volte ti colpisce questa cosa, perché per alcuni attori è un mestiere, no? Cioè, per tutti gli attori è un mestiere, ma per alcuni attori che lo prendono così, non in modo viscerale, mettiamola così, è una parte, fa quella parte lì, ecco. Poi, al solito, lui è strano, vero, Joaquin Phoenix, e quindi anche quando risponde, non lo so, non sai mai quanto ti dice una cazzata, o quanto ci crede, però mi ha colpito, mi ha colpito, insomma. Perché ovviamente, cioè, ovviamente ti colpisce, ecco, una recitazione del genere. E quindi, per quelli che non hanno visto, adesso ve lo spoiler tutto. Vi dico esattamente dall'inizio alla fine, come faccio, che no, non lo spoilerò. Però a me, diciamo, è piaciuto come film, ovviamente ti deve piacere un po' quel genere lì, quell'atmosfera lì. Lui l'ho trovato incredibile, ecco, ma in generale lui l'ho trovato spesso incredibile come recitazione. A volte, ecco, è fastidioso. Qual era l'altro, quell'attore che è morto, altro grande attore, grande attore, insomma, The Master, quello ispirato a Scientology, anche lì, insomma, è un... Il grande attore, per me, ne parlo ogni volta che intervisto qualcuno, ne parlo con Accorsi, ne parlo con un po' di... di gente del cinema, è incredibile come dal... dall'istante zero in cui parte il film, lui è già quel personaggio. Non ti viene mai in mente il dubbio che lui stia recitando. Avete presente quando vedete un attore scarsotto e invece dici sta recitando la parte... è bravo a recitare quella parte lì. Invece il grande attore è quel personaggio lì. E hanno questa capacità che davvero, in alcuni casi, io trovo incredibile. Subito, è immediato, perché loro, nella loro testa, quando entrano nella parte, hanno il prima della stanza, cioè sono in una stanza, non è solo ok, adesso sono qua e recito, ma è che cosa ho fatto prima di entrare nella stanza, cosa farò dopo, dentro hanno tutto questo percorso ed è il motivo per cui insomma sono grandi attori. Bene, voglio intervistare più attori, più attrici, più registi, insomma è un mondo che a me appassiona tantissimo. Il cinema, un periodo della mia vita lo passavo da ragazzetto, andavo sempre al cinema, da solo, nessuno voleva venire con me, no, perché, no, all'università, c'erano dei momenti in cui ero lì, non c'era un cazzo da fare, perché non è che studiassi tanto, allora andavo, andavo al cinema, a Milano, mi sparavo sto, sto filmetto, di pomeriggio, no, con i vecchiettini, non so, il cinema, ha quell'atmosfera magica per me, che, che, insomma, è difficile spiegare se uno non l'ha provata o non gli piace, però, insomma, a me piace molto. Bene, quindi gli Oscar così, peraltro, un altro dato degli Oscar che mi ha colpito sono le candidature all'Oscar di Netflix, cioè Netflix è partito nel 2013 con zero candidature, quindi 2013 aveva zero candidature e poi ha fatto, credo, 22 candidature quest'anno, continua a crescere le candidature, a prescindere dagli Oscar, le candidature a go go, e d'altronde si investono anche un bordello di soldi per cui ci sta. Dopodiché, ecco, Seymour Hoffman, grazie Sabrina, Seymour Hoffman, grande attore, mamma mia, che attore, anche quello lì, questa capacità così di essere subito il personaggio a me affascina tantissimo. Però, l'altro, la vita dell'attore o dell'attrice non è facile, no, entrare in un'altra persona, di tutto il percorso tortuoso che a volte fanno per esserci. Mamma mia, il mestiere è difficilissimo. Dopodiché, Parasite, non l'ho ancora visto, non provate canza a spoilerarmi, ancora non ho visto Parasite, ho il mio figlio più grande che continua a dire ma guardalo Parasite, e io gli dico ma no, una cagata di cose, Parasite. Invece, eccolo lì, e poi, 1917, anche non l'ho visto, non mi spoilerate neanche questo, so solo che è ripresa senza tagli, giusto? O taglio digitale, comunque, una monoripresa senza editing in teoria, ecco, una roba del genere, questo è quello che ho capito, però, non ho ancora visto, non ho ancora visto. Dopodiché, eccoci qua, ecco, cosa ne pensi di Parasite, Zaira, quindi non sono preparato, un giorno faranno un film su Montemagno, si dice Stefano Amagri, sì, nel momento in cui faranno un film su Pip-Pong, non possono recitarlo, ho il tavolo a Pip-Pong in casa, ve lo segnalo, ve lo segnalo, perché questo potrebbe cambiare completamente, completamente le mie dinamiche, non so, sto pensando di tornare un po' a allenarmi, è che sono proprio una sega, ho portato il fruglio l'altro giorno a giocare al Pip-Pong Club, mamma mia, non la tiro più dentro, non la tiro più dentro, sono imbarazzante, quindi ti infastidisci con te stesso, dici, ma cazzo, non posso essere così una sega, e invece, non è il massimo, piano sequenza, grazie Giuseppe, si chiama piano sequenza, che è la tecnica, Giuseppe Cirelli, si vede che hai la mano giusta, cinematografica, piano sequenza, piano sequenza, bene, quindi sugli Oscar vi ho detto tutto quello che stavo gurgugliando, dopodiché, c'ho il gioco, potete ancora giocare al videogame, è gratis, tra parentesi, non c'è nulla che vi voglio vendere legato al videogame, ufficialmente è una promozione per lavorability, ma l'impatto sulla vendita del libro penso sia praticamente nulla, però è una bella iniziativa, a me è divertita molto, fatta con i ragazzi di Gamindo, G-A-M-I-N-D-O, Gamindo, molto bravi, hanno sviluppato questo videogame ispirato a un videogame famoso di ping pong che trovate sugli store, una cosa che abbiamo fatto così, al volo per divertirci e per vedere e di esplorare anche una modalità di comunicazione diversa. Mi hanno girato le slide, vi dico alcuni numeri pazzeschi, alcuni numeri pazzeschi. Allora, numero uno vi dico, ad oggi sono state giocate 190.372 partite, che sono un bel po' un bel po'. Dopodiché, 16.000 giocatori, e tempo totale di gioco 3.241 ore. Ok, tempo medio per sessione, quindi ogni volta che una persona viene a giocare, 6 minuti e 30 secondi. Veniamo ai posti, i dati geografici sono clamorosi, cioè, adesso non so come farlo vedere, fatemi vedere se si vede da qua, perché non so mai come mettere a fuoco, perché c'è un fuoco così, adesso non vedo, c'è in ritardo, quindi nello schermo l'immagine che vedo io è in ritardo, eccolo qua. Comunque si vede qualcosa, sono 79 paesi che hanno partecipato al gioco, Italia è ovviamente nei top 5, però ci sono posti di tutto il mondo, davvero. Quindi sto pensando di fare un world tour, perché mi sape incredibile. 85% dei gioco è stato fatto da cellulare, qualcuno l'ha fatto anche da portatile cercando di barare, no, 13% da portatile, una roba del genere, bene. Poi abbiamo messo alcune novità sul gioco, c'è la classifica giornaliera e c'è la vita extra, questa mi è sembrata una furbata, non l'ho proposta io, bravi, mi è sembrata una bella iniziativa, se tu condividi, se fai share, a quel punto ti danno una vita in più, è carino. Dopodiché ho un po' di statistiche poi mi fermo, però mi sembrava mi sembrava forte, c'è un giocatore, non so se per il regolamento io posso dire il nome, comunque c'è un giocatore che ha fatto 2454 partite, 2454 partite, e ha fatto contro di me 54.924 punti e il secondo è tipo a 4000 punti, cioè una statistica incredibile. poi il mio avatar ha detto pazzo furioso nel gioco, perché quando fai un punto io dico pazzo furioso nel gioco, il mio avatar ha detto 337.583 volte pazzo furioso, principali città che hanno giocato, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari, Padova e Brescia, quasi 80 paesi, abbiamo visto 79 paesi, mi suggeriscono ma perché nessuno dalla Groenlandia, non lo so, la Groenlandia e Romania sono i due paesi dove gli utenti hanno i tempi medi di sessione di gioco più alti, di 12 e 14 minuti a sessione. Il momento della giornata, eccolo qua, in cui la gente gioca di più, dalle 13 alle 15 post pranzo, uno si mette lì e dice adesso cosa non c'è un cazzo da fare, posso fare la bennichella, vi faccio la giocatina col Monti. La cosa divertente ve lo ricordo di questo giochino, andate lì, giocate e poi è un concorso chi vince lo sfido a ping pong nella vita reale. Questa è la stupidata che ci siamo inventati. Sembrava una roba simpatica, ecco. Per cui, non mi ricordo quando finisce, andate a vedere, c'è scritto il concorso, insomma, c'era tutti i regolamenti che non entro nel merito, però credo che ci sia ancora un po' di giorni per giocare. Bene, come si gioca? Stefano, vai al link cerca Monti Video Game oppure vai su Instagram, nel profilo, sai le storie in evidenza, c'è il link e vai lì. È la cosa più facile, però lo trovi anche sulla pagina Facebook, se scrolli, c'è il videogioco, il link nei commenti e via, e via, e via dicendo. Bene, dopo di che Lorenzo Fedi dice, a Milano di cosa parlerai? Chiede Lorenzo. Per chi non lo sapesse, a Milano il 14 marzo vengo in occasione della Milano Digital Week che è una settimana di eventi gratuiti, credo tutti, non so se c'è qualche evento pagamento, ma dovrebbero essere tutti gratuiti, eventi dedicati al digitale che fa la città di Milano e faccio un salto lì anch'io con un mio evento il sabato. Trovate anche qua il link per registrarsi, l'evento è gratuito, il posto dove lo faremo ancora lo dobbiamo annunciare, se è come penso saremo in un po' e molti penso saranno sorpresi, però è interessante, non ho mai fatto un vero e proprio ritrovo da dire ok, troviamoci in un posto e diamoci non tre giorni di tempo ma un mesettino di tempo per raccogliere tutte le registrazioni, quindi secondo me insomma ci sarà abbastanza gente, mettiamola così, staremo a vedere e il posto lo comunichiamo e se non sbaglio è alle 5. Alle 5 il formato guarda Lorenzo è un po' sempre lo stesso per me. Faccio una prima parte io dove l'argomento che mi piace in questo momento è sempre quello dell'opportunità. In un mondo di cambiamento che è quello del lavoro che è stato il tema poi dell'ultimo libro mio qual è l'opportunità che apre il digitale? Qual è l'approccio giusto? quali sono degli esempi? Quali sono un po' di strategie anche per comunicare su questo mondo dei social? E quindi questo è il mio taglio. E poi l'altra parte dell'incontro invece sono domande. Si alza come chi è venuto a Firenze, Bologna, Napoli o a Omid Monti in passato lo sa si alza e dice Monti tu cosa pensi di questo? Oppure capito? Cos'è? E lì insomma uno cerca di raggiungere due obiettivi da un lato incontrarsi di persona di modo che almeno ci si vede ogni tanto anche per me divento meno psicologicamente instabile a far video davanti a una camera parlo a una camera che non è proprio naturalissimo dopo un po' almeno vedi anche delle persone davanti a te e dici ah ok capisco anche a chi sto parlando ogni tanto è un modo per incontrarsi tra di loro le persone che vengono si incontrano tra di loro a prescindere da me io sono la scusa ma poi tu incontri altre persone e poi è un modo per così magari scambiarsi qualche riflessione qualcosa che può essere utile a qualcuno che pensa a questo mondo dei social della comunicazione insomma io quello di cui posso parlare è quella roba lì intraprendere con le mie piccole start-upine e poi un po' di social e di comunicazione su tutti questi mondi che cambiano e anche per me sono difficili insomma quindi mi immagino uno che che fa mestieri totalmente diversi totalmente analogici come fa a muoversi questo mondo boh non lo so e basta e quindi è una chiacchierata così se uno è venuto a un meet monti sa com'è l'approccio è super informale e fine la storia insomma però a questo giro vorrei cercare veramente di fare una cosa bella grande e utile ecco è un passaggio io ho in testa da un po' questa idea di fare un concerto di idee dove portare dentro in un incontro gente che secondo me pensa bene su vari argomenti allora provare a raccogliere persone che hanno voglia di uscire da lì con un po' di spunti e mi piace ecco l'idea che anche siano incontri gratuiti e poi se penso a cose interessanti che vedo magari non so c'è il TED quello grosso non i TEDx ma il TED quello grosso cacchio c'è un posto che hai dei fenomeni a parlare è senz'altro molto stimolante ma costa un occhio e la testa andare non è per tutti tu dici eh ti puoi vedere i video sì però non hai la parte aggregazione allora mi piaceva l'idea di riuscire a organizzare poi un grosso incontro gratuito coinvolgendo tante persone interessanti dal mio punto di vista poi sai per me sono alcuni interessanti magari per te no però sui temi di attualità insomma c'è molto da fare come informazione buon quindi questo è per quello che riguarda il gioco e Milano dopodiché ti ringrazio Roberta Lidia dice si vede benissimo ah ottimo Lidia sono contento si vede benissimo e Andrea Lucini dice Monti Camusi questa qua è la DSLR uso direttamente la camera che uso per fare il video dopodiché cos'altro volevo dirvi ah ho visto ci volevo fare un video ma lo accenno qua e faccio prima invece poi voglio fare un video su tutto il tema Apple Watch che mi sembrava interessante sul coronavirus o coronavirus come volete dirlo ho visto un articolo credo di Bloomberg che giustamente diceva incredibile come il coronavirus abbia scoperchiato il mondo del controllo cinese ovviamente sappiamo che in Cina c'è il massimo controllo e tutti sono sorvegliati ok lo sappiamo tra l'altro anche noi lo siamo c'è un articolo uguale su Londra e l'Inghilterra non è che non lo siamo qua siamo sorvegliati tutti allo stesso modo però in Cina ancora di più la cosa interessante è che in questo momento di emergenza tutte le società di sorveglianza sono state chiamate a dare una mano per cui se hai visto una persona che è uscita dal posto contaminato devi capire dov'è per dirle oh guarda mettiti in quarantena no? questa è un po' la logica e la cosa che faceva giustamente notare a questo articolo è il livello di sofisticazione quindi io riesco a riconoscerti anche se hai la mascherina quindi riconoscimento facciale anche se tu metti la maschera ti riconosco la uguale poi riesco a capire se hai la febbre sì o no tipo una variazione di 0.3 gradi ti becco se c'è la febbre oppure no poi se tu sei in treno a quel punto la telecamera riconoscimento facciale sa che c'è una persona magari che ha la febbre o che è una persona segnalata ti dice anche tutti quelli che erano intorno tipo fino a tre file di distanza c'era il caso che riportava di una persona che a un certo punto è stata intimata ad andare intimata starsene in quarantena è uscito dopo un po' ed è stato subito beccato segnalazione che viene mandata al datore di lavoro cioè è incredibile il livello di sorveglianza ma è molto più avanti di quello che noi oggi ci immaginiamo ed è curioso vedere che in Cina in questo momento è figo no dice cazzo diamo una mano al paese è giusto che dai una mano al paese però dall'altro lato tu ti fai un attimo e dici ah ok ma quindi tu mi sorvegli allo stesso modo anche quando non c'è un'emergenza sì quindi questa è una cosa su cui bisognerà prima o poi riflettere ho parlato tante volte il solito discorso del lascia che mi prenda cura di te in cambio della tua libertà no questo è un po' il concetto e sarà sempre più così dice Pilar Luisa Perazzo sinceramente un po' mi spaventa tutto questo mondo tecno sembra quasi quei film futuristici assolutamente è esattamente 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 cos'è quando uno vede i film dove tu becchi uno subito è pazzesco c'è un livello di controllo enorme poi il fatto che magari quando ci sia un crimine tu lo becchi subito è un altro discorso ne parlavo con Picozzi andate a vedere il video e lì entrano in campo altri altri diciamo elementi però è pazzesca questa cosa in generale oggi del livello di controllo il livello di controllo viene spostato sempre più in avanti sempre di più c'è controllo in occasione di ogni problema ogni volta che c'è un'emergenza ogni volta che c'è l'attacco terroristico ogni volta che c'è la potenziale epidemia a quel punto sale la soglia la paura e il governo sempre sempre lo stesso gioco arriva e dice oh allora qua dateci pieni poteri che qua dobbiamo controllare tutto e tu basta fine non hai più nessun tipo di libertà di privacy zero non esiste più so that's a big problem but dopodiché abbiamo tu 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 ti mando un messaggio privato bla 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 mi scuso con quelli che mandano messaggi privati o che dicono ecco non hai risposto mi dispiace non poter rispondere a tutti non sono in grado lo ammetto ho dichiarato bancarotta nella risposta ai messaggi non sono in grado troppi su qualunque piattaforma in qualunque momento anche se avessi tre persone io e tre persone 24 ore al giorno non riusciremmo a rispondere a tutti e quindi nulla tendenzialmente cerco di monitorare ogni volta che mi passa qualcosa avanti interessante mi muovo però I'm sorry for that se mi volete odiare se qualcuno mi vuole odiare perché non riesco a rispondere a tutti in tempo reale odiatemi e non so che cosa che cosa fare Lorenzo dice Monti intervisterai Ranzulla ma sai che il vecchio salva avevamo già fatto un video insieme e dice un 4 chiacchiere può essere sì assolutamente that's that's possible boh magari lo sento insomma organizziamo Maurizio di Tommasi dice buonasera ma lei perché non si è proposto come facilitatore nel movimento 5 stelle no non fa per me non fa per me non fa per me non fa per me e e basta insomma dopodiché quello che mi sembra interessante è questo questo mondo di informazione che uno può cercare di di provare a fare ecco a me piace molto l'idea di coinvolgere persone in questo momento su alcuni argomenti di cui io non so nulla che ne so l'olio un po' di tempo fa avevo fatto un video credo sui pomodori era un altro supermercato con l'Inghilterra e ho visto questi pomodori che erano spacciati per pomodori made in Italy poi entravi nel merito e dici ma questo invece non è made in Italy è tipo impacchettato in Italia e allora insomma c'è tutto questo problema ad esempio sull'olio c'è il problema dell'olio l'olio di origine italiana non origine italiana e allora è un argomento dove dico ah mi piaceva parlare con un esperto di olio e via così insomma io poi sono curioso per cui ci sono tanti argomenti su cui mi piaceva molto approfondire e allora potendolo fare provo a così coinvolgere magari qualche qualche ospite e parlare ad esempio con Walter quattro ciocchi abbiamo parlato del tema delle fake news troll hate speech peraltro ho caricato quel video e nell'Apple Store il mio podcast che era il numero uno di business da non so un anno è crollato tipo al numero 200 subito forse me l'hanno segnalato non so ma che cazzo però è così bene intanto saluto a Placido e Lorenzo dice se andassi 5 stelle smettere i seguiti subito no ma la politica diciamo non fa per me io l'ho detto tante volte in passato ho fatto diverse consulenze di comunicazione politica a 360 gradi dal centro sinistra al centro destra quindi senza nessun tipo di valenza o di interesse al politico mio se avessi voluto fare politica o roba del genere mi hanno offerto di tutto di più ho sempre rifiutato e poi ho vissuto quel mondo lì un annetto un annetto e mezzo a Roma enough quindi non fa per me non è assolutamente per me a meno di lanciare il partito del ping pong se partisse il partito del ping pong o il partito dei pelati in quel caso potrei pensarci se no niente niente dopo di che Paolo Evoli ci propone un incontro qui in Canada magari a Montreal o Montreal sarebbe spettacolare vederti il video cosa pensi il mercato canadesi è molto alto ma c'è una gran confusione ci vorrebbero chiarificatori vita ti ringrazio guarda onestamente non lo so non lo so Canada mi piacerebbe tantissimo vedendo i dati del videogioco sai che mi ha fatto mi ha fatto venire in mente di fare un giretto anche all'estero ci sono un sacco di posti che uno trascura devo partire intanto qua dall'Inghilterra devo fare un ritrovo qua Brighton Londra e basta insomma e ci troviamo tutti gli italiani che sono in Inghilterra è un peccato provo provo insomma al momento lo vedi insomma come sono questi questi ritrovi che faccio sono incontri gratuiti dove appunto è un modo per conoscersi vedersi io butto lì un po' le mie idee ci divertiamo anche un attimo insomma non deve essere una roba che è una rottura di coglioni chi mi segue un po' mi conosce insomma non è che mi prenda su serio quindi se è un incontro è un incontro informale insomma un po' alla mia maniera e basta e a quel punto è un modo secondo me interessante per per favorire dei contatti ecco tra le persone che magari per un modo per un motivo diverso seguono i miei video basta e allora si tratta solo di trovare le occasioni magari in Canada capito una volta sono lì che vengo a fare un viaggetto con la famiglia e un giorno uno organizza e fa un ritrovo per dire però non c'è nessun modello di business dietro adesso magari l'unica cosa che aiuta un po' è che in genere se io dico che vado in un posto spesso mi offrono una location gratuitamente per andare lì però prima primo anno e mezzo i ritrovi che facevo semplicemente pagavo io il posto per poter ospitare magari mille persone o così e magari offregli anche un panino non so per cui è proprio una roba di divertimento hobistica ad oggi è totalmente così poi chiaramente se i numeri diventano ingestibili è chiaro che lì hai bisogno di un supporto dovrai far pagare un biglietto perché sennò è un casino però ad oggi insomma sto cercando di resistere di provare a fare una roba del genere that's it per cui 14 marzo Milano il link per registrarsi peraltro c'è nel post su facebook precedente lo trovate lì e ci vediamo lì 14 marzo a Milano bene 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 possiamo comprare dice Lorenzo il libro agli incontri no ripeto lo so che per alcuni è difficile capire questa cosa io non faccio questi incontri per vendere qualche cosa faccio questi incontri perché mi piace l'idea di fare questa tipologia di incontro quindi non ci sono non c'è la bancherella per comprare il libro se non vuole comprare il libro lo compra online lo compra in libreria ecco però non non sono impostati così Cristi Larelanda dice soprattutto complimenti per l'idea di 4books ti ringrazio sai che 4books sta andando di bvvutto un grande grazie e complimenti al team di 4books che ci lavora molto bene e sta crescendo sta crescendo abbiamo la lingua spagnola quest'anno partiamo anche con la lingua inglese 4.8 di recensioni sullo store è una bella app oggettivamente lo dico perché non l'ho sviluppata fisicamente io quindi posso dire che è una bella app vista da utilizzatore secondo me è un bel prodotto secondo me è un bel prodotto un saluto intanto Andrea Mellis da Copenhagen Gianfranco in Inghilterra abbiamo anche una birra in sospesa da due anni perché un po' di tempo fa avevo fatto un ritrovo però era ancora facile avevo detto oh sono qua a Londra se passate al pub vi offro una birra e non saremmo inventi una roba così era stato molto divertente Andrea Segalina dice ti senti una persona influente no no assolutamente mi sento un tizio che fa l'imprenditore fa i suoi progettini con alti e bassi e e per passione faccio questi video ecco fine poi se uno ci coglie magari qualche qualche aspetto utile interessante bene se no ah ma insomma lo farei comunque e l'ho fatto comunque negli anni quindi c'è chi piace andare a vedere la partita di calcio c'è uno a cui piace star qua e parlare davanti a una cama quali argomenti dirai a Milano dice Josue Patorniti lo dicevamo lo dicevamo prima Josue gli argomenti sono sempre miei qualche riflessione su questo scenario della comunicazione sui social quali sono le opportunità quali sono degli esempi interessanti di gente che fa delle cose un po' diverse alternative inventarsi un lavoro trovarsi un lavoro o reinventarsi all'interno della propria azienda a me piace questo tema di furiosità pazzescosa ecco una roba del genere fuori qui si to bene 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 Marcello dice ci siamo rimasti male Firenze ti aspettavamo fuori una decina per un saluto ad un autografo su tua obiezione invece sei scappato guarda Marcello il problema di questi 20 qua chi è venuto magari ai primi lo sa io sono andato a Rimini a fare un McMonti e da quando è finito cioè l'incontro sono stato fino a mezzanotte quindi sono stato tipo dalle 8 a mezzanotte lì solamente per salutarsi la cosa è che farei in assoluto con maggiore piacere il problema è che quando invece hai degli incontri uno dietro l'altro e da lì da Firenze dovevamo fiondarci a Bologna era il terzo incontro che facevo quel giorno quindi ho delle persone giustamente fanno quel mestiere sono pagate per far quello che hanno la tabella in marcia prendono ti spostano e ti portano capito in giro se no non riesci a far tutto spiace anche a me sorry avremo altre occasioni purtroppo se uno non riesce non riesce mai a fare tutto come vorrebbe questo è un po' la cosa va bene va bene va bene dai basta allora ci vediamo 14 marzo a Milano ve l'ho detto gli Oscar li abbiamo commentati mi sembra una roba divertente Joaquin Phoenix è una persona che intervisterei molto volentieri anche se mi sembra di una difficoltà clamorosa da intervistare però sarebbe bello intervistarlo e poi videogame se vai sul profilo Instagram o su Facebook trovi per giocare si gioca gratuitamente una roba per divertirsi e il primo in classifica lo sfido più in po' nella vita reale poi ovviamente farò il video di quella roba lì ed è una cosa così un po' piacevole e divertente a questo punto un saluto buona giornata e ci vediamo alla prossima ciao and stop un saluto un saluto